avete mai visto quella pubblicità che fa io di patatine? ne ho provate tante lascerò il cuoricino a chi indovina di che pubblicità sto parlando comunque non è il mio caso perché sono triste e solo dai ragazzi quando vedrete questo video rosicherete come le bestie perché? perché come da titolo ho regalato una fennec bianco titanio a uno di voi ecco perché vi dico che ogni domenica dovete venire ai giveaway perché così ci guadagnate qualcosa e questo signore tubanone ha vinto la fennec bianco titanio guardate la sua reazione i giveaway sono aperti a tutti quanti però se siete sub avete il doppio della percentuale di essere estratti ovviamente abbonatevi con il prime ovvero la coroncina a fianco al nome così avete più probabilità di vittoria e senza spendere nulla perché il prime è gratis come ha fatto tubanone infatti si è abbonato e papam effetti di scena da premio oscar da chi e ha beccato la fennec bianco titanio in questo video vi spiegherò come funzionano i giveaway mentre flexo la fennec bianco titanio e in più come funziona l'estrazione buona visione e mi raccomando pollicione in su dai e anche perché mettendo like al video mi fate capire che vi piacciono i giveaway rega noi ci vediamo tutte le mattine alle 9 del mattino in live venitemi a trovare bella rega già lo sapete già lo sapete andate nello shop premete r2 e qual è la parola scrivetela nei commenti vediamo quanti di voi lo sanno il codice creator ads joezy ragazzi per allungare il vostro pechellus e mandatemi la foto su instagram anche solo se lo inserite spoiler era questa la parola io vi risponderò in direct allora ragazzi un descrivativo ticket in chat ultimo ticket della della serata rega buona fortuna a tutti quanti facciamo l'estrazione chi la vince vince è buono sicuramente uscirà un sub sicuro vediamo ragazzi se la vince checco con lo stragrancazzo che gliela la do con lo stragrancazzo si va signori si va signori estrazione ragazzi si va con la grande estrazione bene bene signori andiamo ad estrarre il vincitore let's go magari vincerà proprio l'ultimo sub visto che c'è molto probabilmente vincerà un abbonato perché ragazzi che cosa vi dico l'abbonato è il quintuplo della probabilità di essere estratto quindi è molto più probabile che c'è cinque volte l'estrazione tantissimo rega quindi buona fortuna per lui quando voi vi abbonate vi dico vabbè se non avete vinto se non avete vinto adesso magari vincerete la prossima volta perché l'abbonamento serve anche per i prossimi giveaway dove il martelletto che ormai il martelletto è qua ragazzi è qua andiamo signori il vincitore della fennec bianco titanio è tubanone così così dal nulla tubanone ci sta aspettate che non è non è detto tubanone signor tubanone sei da pc o ps4 perché ancora non è detto ragazzi il tubanone pc o ps4 come dice ps4 si attacca al e un po si gode pc gg ragazzi uno spam di gg in chat al tubanone che si è aggiudicato si è aggiudicato come ti chiami uno spam di gg al tubanone ragazzi che si è aggiudicato così a primo colpo gg per tubanone mi piace cioè mi ha fatto piacere avete visto pam pam goditi questo gg questo spam di gg tubanone te lo meriti questo spam di gg gg per tubanone buona fortuna grazie grazie veramente di cuore dimmi come ti chiami che ti aggiungo intanto voglio ringraziare il signor the prime youtube che si abbonati con il prime janfil 923 che si abbonati con il prime sono bello 08 che si abbonati con il prime adesso che vi siete abbonati avete diritto a numero di telefono gruppo dei sub richiesta d'amicizia il martedì e il sabato si gioca insieme non vedi la pubblicità 30 emoticon esclusive e tutto questo gratis gratis grazie al vostro twitch prime in più oltre a questo avete diritto anche ad entrare nel server di minecraft la jozzy craft e in più in più i futuri giveaway perché ogni domenica io regalo qualcosa per esempio questo giveaway è stato fuori di testa perché ho regalato una fennec bianco titanio dal valore di 5000 crediti su per giù quindi gg veramente gg dov'è come ti chiami aspetta che apri il gioco sono tubanone ok aggiungiamo tubanone ma immaginate non può scambiare tubanone ti ho mandato la richiesta d'amicizia tubanone sono veramente felice ragazzi che almeno ha vinto ha vinto una persona che c'è c'è da tantissimo tempo sul canale c'è veramente da tantissimo tempo quindi mi fa tanto tanto piacere sta pure bello equipaggiato che macchina è questa tuba che macchina era lak mato rega lo sto facendo veramente devastante rega cyclone aiuti ma vi pare che gliela do rega cioè vi pare che gli do la fennec bianco titanio ma io gli do l'hamburger rosa cioè stai buona che hai pagato ma chi ti conosce tubanone ovviamente è scherzo ragazzi i giveaway sono giveaway gg per tubanone ecco perché vi dico che serve fare la mia c'è la sub al canale perché ogni tanto mi prende il matto e lui si è giudicato ben 5000 crediti rega 5000 crediti così gg per tubanone la puoi anche flexare eccola là aspetta che facciamo il tag team tanto io ne sforno quando ne vuoi the titan white gg per tubanone si è aggiudicato la signora fennec mo come minimo perché poi tra l'altro sono pure felice perché è un abbonato da tanto tanto tempo ragazzi secondo me c'è rimasto da me ma tu ti immagini che stava tipo lì guardava dice no ma che veramente no ma come gg tubanone gg 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 sono veramente felice alla fine vedi lui si è abbonato per sei mesi per sei mesi non ha vinto nulla questo mese ha vinto la fennec bianco titanio quindi ne è valsa proprio all'astra grande grazie a tutti 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 grazie a tutti